Presidente, a parte la felicità della vittoria su Pietrasanta ti volevo partire da un'altra domanda. Hai calcato piazze come Pisa, Serie C, Serie B, l'abbraccio dei tifosi a fine partita dove ti hanno chiamato e ti hanno dedicato un coro? Sicuramente è un aspetto emozionante di questa città che fin dal primo momento sono stato colto in maniera positiva per cui devo ringraziare l'amministrazione e la città per come si sta muovendo e mi auguro di dare quelle soddisfazioni che la città si merita. Ecco, uno stadio stracolmo, come ha detto il mister, non si ricordava un boato così nemmeno quando lui giocava in Serie C2. Sul 2-1 un po' i brividi sono venuti. No, è stata una partita buona con una cornice pubblico eccezionale. Già tutta la settimana era stata dove avevamo fatto la prevendita e preventivavamo questa cornice pubblico. oggi si è avverata, sono contento soprattutto per i ragazzi che hanno dimostrato di essere una squadra vera anche nel momento delle difficoltà. Quindi mi auguro che oggi di non mollare di un millimetro perché mercoledì abbiamo un'altra partita molto molto importante a quale ci teniamo molto e poi da domenica abbiamo nuovamente nuove battaglie per cui a oggi siamo sulla buona strada ma ancora oggi non abbiamo fatto ancora niente. Ecco, i meriti ai ragazzi, i meriti al mister ma anche la società a gennaio ha rinforzato la rosa soprattutto con Pieroni e Balestri, oggi esce Brega, entra Balestri e dopo due minuti segnano il vantaggio. Federico è sempre stato uno nel gruppo, io lo avevo a Pisa, lo conoscevo perfettamente e conosceva perfettamente il direttore. Appena si è presentata l'occasione e l'opportunità di parlare con Federico ci abbiamo parlato, lui è venuto carico perché aveva bisogno di una piazza importante, aveva bisogno di sentirsi ancora giocatore per cui su questa piazza Federico può fare molto molto bene. Ecco, c'è già mobilitazione per la finale, se attendono diversi tifosi anche di mercoledì se sono le due e mezzo. È un obiettivo che la società si era già prefissata all'inizio stagione che può aprire le porte alle finali nazionali? Sì, è un obiettivo che indubbiamente ci tiene la società, ci tengono i tifosi, ci tengono soprattutto i ragazzi e il mister, per cui mercoledì andiamoci per giocarci la nostra partita in maniera serena e tranquilla, consapevoli della nostra forza e consapevoli che possiamo sicuramente far bene e portare la Coppa a casa.